Buonasera a tutti, buonasera dallo Stadio Olimpico di Roma, buonasera anche da parte di Federico Foroni che alla parte tecnica dunque sta per cominciare il recupero della 25esima giornata del campionato di Serie A Lazio-Torino il match che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 2 marzo e che invece è stato rinviato a causa del focolaio Covid che aveva colpito il Torino e che ha indotto la ASL del capoluogo piemontese a impedire la partenza alla volta di Roma della formazione Granata da lì si è innescato un ginepraio di ricorsi contro ricorsi da parte della Lazio che voleva la vittoria a tavolino per 3 a 0, ricorsi che sono stati respinti prima dalla corte sportiva d'appello e poi dal collegio di garanzia del Coni alla fine dopo oltre due mesi, dopo due mesi e mezzo in pratica questa partita si gioca e arriva in un momento estremamente delicato per il Torino perché in realtà questa gara vale solo per la formazione Granata che è più che mai impegnata nella lotta per non retrocedere a tre punti di vantaggio sul Benevento e domenica ci sarà lo scontro diretto all'Olimpico Grande Torino ma potrebbe essere un amichevole Torino Benevento se il Toro questa sera dovesse uscire dall'Olimpico di Roma con almeno un pareggio Torino che ha bisogno di un punto per salvarsi aritmeticamente altrimenti in caso di vittoria della Lazio tutto verrebbe rinviato allo scontro diretto con il Benevento di Pippo Inzaghi e qui entra in ballo il valore affettivo familiare della famiglia Inzaghi perché Simone cercherà, Simone Inzaghi il tecnico della Lazio cercherà di fare un favore al suo fratello Pippo Gansaldi che va via Lazzari col sinistro parte il cross interessante smanaccia Stracoscia pallone lì Stracoscia ancora Stracoscia due volte il pallone però in gioco e poi c'è l'intervento irregolare di Sanabria Olimpico Qui siamo entrati nel 39esimo 0-0 tra Lazio e Torino con la Lazio che ha creato un mezzo pericolo qualche istante fa sul primo calcio d'angolo del match al 38esimo angolo battuto da Luis Alberto spizzata di testa da parte di Eradu sul secondo palo intervento decisivo da parte di Izzo ad anticipare Immobile che come sempre accade in queste circostanze su azione d'angolo si posiziona sul secondo palo pallone allontanato dal numero 5 è Granata un primo tempo veramente di rara bruttezza 0-0 tra Lazio e Torino Radu col mancino, altro lancio calibrato per Murici, colpo di testa per Immobile che si gira e mette il pallone in rete ma c'è la spinta di Immobile, gol annullato gol annullato, una spinta di Immobile su un Culu Immobile come gli arriva un pallone decente lo tramuta in gol l'arbitro ha fischiato vediamo un po' se probabilmente ci sarà ora un consulto con il VAR fatto sta sul lancio di Radu c'è stato il colpo di testa di Murici che ha servito Immobile Culu è andato a terra, rivediamo un po' le immagini Culu è andato a terra e Immobile ha deviato, ha girato di prima intenzione il pallone in rete è confermata la decisione da parte del direttore di gara il contatto tra Immobile e Culu è stato punito dal direttore di gara gol annullato dalla Lazio, l'unica emozione di questo primo tempo è arrivata proprio in dirittura d'arrivo della prima frazione Vai Massimo Sì è ricominciata da tre minuti e c'è stata la parata di Sirigu su una conclusione dal limite di Luis Alberto Luis Alberto con il piatto destro ha cercato di piazzare il pallone sotto la traversa ha alzato la mano Sirigu e ha deviato in corner Largo sulla destra c'è Marusic, ecco il Montenegrino che lancia in profondità Murici spizzata per Immobile, Immobile, Murici attenzione all'altezza del dischetto del rigore Murici ci pensa troppo in Culu in scivolata evita un gol che sembrava certo ma occasionissima per la Lazio all'ottavo minuto azione ben congegnata da Murici e Immobile pallone di ritorno di Immobile per Murici all'altezza del dischetto del calcio di rigore ci ha pensato forse un po' troppo nel calciare di sinistra è stato bravissimo comunque in Culu in scivolata a evitare quello che ribadisco sembrava un gol ormai certo è un Torino che comunque ci sembra impaurito e questa non è una bella notizia per Davide Nicola e per la sua squadra vediamo la Lazio che ora avanza nuovamente sul settore di sinistra lo fa con Radu che serve far essere la sponda di Immobile Luis Alberto guarda in avanti invece serve il vicino Radu sulla sinistra va al cross Radu altissimo il pallone che si perde oltre la linea di fondo campo rimessa dunque per Sirigu dicevo un Torino che ci sembra impaurito teme l'errore e la formazione da parte di Davide Nicola chiaramente comprendiamo lo stato d'animo della formazione Granata che ha bisogno di un punto per salvarsi per evitare di andarsi a giocare la salvezza domenica nel suo stadio contro il Benevento di Pippo Inzaghi il fratello Simone sta cercando di fargli un favore ma intanto c'è Sanabria che prova all'affondo Sanabria, area di rigore, Sanabria conclusione, Stracoscia blocca e questa è la prima occasione vera costruita dal Torino ecco Luis Alberto lo scatto di Lulic l'ha visto va Lulic, lato corto dell'area di rigore rientra, tripliche su Singo parte il cross, il secondo palo attenzione Murici spinto in area di rigore l'arbitro non fischia qui potrebbe intervenire il VAR Murici era tu per tu con Salvatore Sirigu poi a Pro non è riuscito a calciare ma probabilmente ci potrebbe essere l'intervento del VAR pallone ancora in gioco con Mandragora che allontana in fallo laterale i giocatori della Lazio vanno a protestare nei confronti del direttore di gara si ferma tutto e c'è il direttore l'arbitro Fabri che è circondato dai giocatori bianco celesti Murici che è saltato con Ansaldi che era alle sue spalle poi a Pro non è riuscito a calciare vediamo i giocatori della Lazio e anche quelli del Torino intorno al direttore di gara che sembra irremovibile ora colloquio con Immobile siamo al ventesimo della ripresa episodio più che dubbio all'interno dell'area di rigore della Lazio l'arbitro fa giocare quindi fa giocare c'è stato un contatto non eccessivo dobbiamo dire tra Ansaldi e Murici che è volato via forse il Costovaro ha accentuato il contatto con Ansaldi fatto sta che il direttore di gara ha lasciato correre non c'è stato nemmeno bisogno devi andare a rivedere il tutto occhio a Lulic diagonale Sirigu con il piede sinistro ad allontanare il pallone ma il Torino sta rischiando tantissimo una tattica un po' suicida quella della formazione Granata Lazio ancora pericolosa Sirigu su Lulic al ventunesimo ancora il Torino con il lancio in avanti di Izzo colpo di testa di Marusic molto prevedibile comunque la manovra del Torino che va a recuperare ora il pallone Sanabria c'è l'opportunità per Belotti colpo di testa per Sanabria area di rigore Sanabria tiro palo palo pieno da parte del Torino con Tony Sanabria e questo probabilmente era il match point salvezza per la squadra di Davide Nicola al ventiseiesimo del secondo tempo la combinazione sul lancio di Mandragola tra Belotti colpo di testa perfetto per Sanabria che con il sinistro ha centrato in pieno il palo a Stracoscia ha battuto e dunque palo del Toro con Sanabria Lulic cross basso pericoloso arriva Lazzari conclusione esterno esterno della rete da parte di Lazzari siamo al ventottesimo del secondo tempo e la partita è cresciuta notevolmente per fortuna perché peggio del primo tempo non potevano giocare le squadre ma soprattutto Lazio che ha accentuato le azioni offensive anche se la palla a gol più nitida l'ha avuta poco fa il Torino con il palo colpito da Sanabria il nuovo olimpico Lazio Torino 36 minuti e 15 secondi nel corso della ripresa Lazio 0 Torino 0 ma il Torino ha tremato un minuto e mezzo fa determinante l'intervento di Sirigu subotta il volo potente dall'interno dell'area di rigore di Escalante vediamo Immobile che aggancia il pallone l'area di rigore viene fermato arriva Luisa Alberto quasi in zona tiro Luisa Alberto è un pallonetto Immobile Immobile va giù attenzione ed è calcio di rigore vediamo un po' no è tramutata è tramutata la decisione perché si è alzata la bandierina aveva indicato il dischetto d'arbitro poi si è alzata la bandierina ed è fuori gioco fuori gioco attenzione al 37esimo della ripresa fuori gioco posizione irregolare di Immobile che era andato giù fermato fallosamente da Angulu l'arbitro aveva indicato in un primo momento il dischetto poi c'è stata la bandierina del direttore di gara che si è alzata e allora fuori gioco da rivedere la posizione di Immobile vediamo un po' non c'era assolutamente non era fuori gioco assolutamente non era fuori gioco clamorosa e calcio di rigore ha ricorretto nuovamente e calcio di rigore per la Lazio al 38esimo venuto per fallo di Inclusu Immobile tantissima confusione qui allo Stato Olimpico in questo finale intensissimo nervosissimo ora sono quelli del Toro a protestare in particolare Armando Ezzo ma Immobile è già pronto dal dischetto un fuori gioco che non c'era assolutamente ma davvero strano un errore del genere perché era in gioco di diversi metri Ciro Immobile e allora è tornato sulla sua prima decisione l'arbitro Fabri calcio di rigore in favore della Lazio quando siamo entrati nel 39esimo minuto Immobile contro Sirigu e qui Sirigu deve cercare il miracolo per salvare il Torino in tutti i sensi davvero vediamo un po' Immobile contro Sirigu Immobile 20 gol in campionato contro la sua ex squadra in un momento determinante del campionato del Torino Baselli e Zazza sono pronti ad entrare nel frattempo per la formazione Granata Immobile fuori dall'area di rigore prende la rincorsa sta per arrivare il fischio dell'arbitro Fabri alcuni giocatori che ancora sono all'interno dell'area di rigore per pochi centimetri sono tre del Torino esattamente ora se ne è accorto il direttore di gara che dice la stessa cosa all'Ulic parte Immobile è arrivato il fischio di Fabri con il destro Immobile palo e palla palla viene recuperata da Sirigu palo di Immobile sul calcio di rigore e dunque il Torino se l'è vista bruttissima al 39esimo del secondo tempo non ha calciato benissimo Immobile ha schiacciato troppo il pallone che si è stampato sul palo con Sirigu che aveva tra l'altro anche intuito la traiettoria del pallone tutta la panchina del Torino è saltata in aria ad esultare dopo l'errore dal dischetto di Ciro Immobile al 39esimo minuto Luis Alberto dal limite Luis Alberto centrale parata da parte di Sirigu ma altro brivido per il Torino perché spesso da quella posizione Luis Alberto ha fatto centro poi occhio alla Lazio al limite c'è Izzo pallone che è stato allontanato da Baselli alla cieca con frenesia recupera Parolo poi Marusic un finale con Vuzzo Luis Alberto dalla sinistra punta Baselli parte il cross Lazzari palo di testa Lazzari poi Sirigu pallone poi con fallo secondo Fabri da parte di Murici punizione per il Torino palo di Lazzari di testa e non è certamente la sua specialità è a terra in culù veramente un finale da Cardio Palma c'è anche un giocatore della Lazio che è a terra e se non sbaglio si tratta proprio di Murici 50 minuti e 50 secondi giocatori intorno al direttore di gara nuovamente finale veramente convulso qui allo stadio olimpico con il match che si è improvvisamente svegliato nel secondo tempo dopo il torpore dei primi 47 minuti 51 minuti e 10 secondi il palo di Lazzari allo scatere di testa che ha fatto tremare davvero ancora una volta il Torino il secondo montante il terzo in totale della partita un colpo di testa un pallone schiacciato da Lazzari con il palo pieno colpito mentre c'è stato un duello tra Bremer e Murici si riprende a giocare con un calcio di punizione in favore del Torino si sono rialzati i giocatori che erano terminati a terra 51 minuti e 40 secondi probabilmente su questo rinvio terminerà la partita vediamo quanto intenderà recuperare ancora l'arbitro Fabri con Sirigu che calcia il più lontano possibile pallone che termina in fallo laterale l'ha spedito Lazzari la rimessa sarà per il Torino che deve soltanto tenere a questo punto il pallone 52 minuti quindi siamo andati già due minuti oltre cinque assegnati di recupero dall'arbitro Fabri rimessa per il Torino sotto la nostra postazione c'è Anzaldi con le mani una spinta su Zazzama termina qui 0-0 il Torino è salvo il Benevento va in Serie B questo è il verdetto del recupero della venticinquesima giornata del campionato di Serie A un primo tempo bruttissimo dal punto di vista tecnico con zero emozioni se non eccezione fatta per il gol annullato Immobile un secondo tempo mentre attenzione che c'è una rissa in campo ancora persiste il nervosismo dicevo di un secondo tempo accesissimo con tre pali colpiti quello di Sanabria quello di Immobile su un calcio di rigore e quello allo scadere di Lazzari di testa vediamo un po' teniamo un attimo la linea per capire come si evolve la situazione questo parapiglia finale comunque il Torino se c'è la salvezza il Torino è salvo il Benevento va in Serie B squadre che si dirigono agli spogliatori per fortuna è stata ripristinata la calma è finita per sbaglio 0-0 perché nel secondo tempo le emozioni non sono davvero mancate ma per il Torino quello che conta il punto che serviva per raggiungere la salvezza con una giornata d'anticipo ringrazio Federico Foroni alla parte tecnica è tutto dallo Stadio Olimpico di Roma dove Lazio e Torino hanno pareggiato 0-0 ripeto Torino salvo Benevento in Serie B dall'Olimpico è tutto da Massimo Barchiesi da più cordiale buonanotte Grazie a tutti